Un risultato particolarmente entusiasmante, ritengo tuttavia che non sia merito mio, per carità, è il frutto di un lavoro che è stato fatto sul territorio da tantissimi anni, è frutto del lavoro che i nostri parlamentari in cinque anni hanno fatto in Parlamento portando avanti le idee di coerenza, di onestà e soprattutto di credibilità per cui io sono particolarmente emozionata per questa vittoria e sono onorata di rappresentare questa compagine politica così rappresentativa. Sono inoltre, voglio cogliere anche l'occasione per ringraziare i 71.257 elettori e votanti che hanno voluto dare fiducia al Movimento e alla mia persona in particolare perché al Collegio Uninominale, come lei pensà, non era proprio una vittoria facile combattere, avere come competitor Macauro e Cirielli che sono i protagonisti di una storia ventennale sul nostro territorio. Sono particolarmente orgogliosa di questo risultato e sono sicura che mi impegnerò con tutta me stessa cercando di onorare il voto che i cittadini hanno voluto donarmi.